Gli è stato negato un regalo perché per lui sarebbe stato chiudere 25 anni di carriera con la magliana nazionale, con la fascia di capitano, nel giorno del suo compleanno. Se a un calciatore tu neghi un aspetto di questo tipo, secondo me non capisci che dietro un tuo dipendente c'è anche un uomo.